Se è vero che fino ad un anno e mezzo fa i bassi rendimenti offerti avevano reso le obbligazioni un asset poco appetibile per il mondo degli investitori retail, da qualche mese si è tornato a parlare in maniera molto più concreta di obbligazioni e titoli di Stato, in generale nel mondo, ma soprattutto in Italia, dove il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'importante campagna di comunicazione per riavvicinare i risparmiatori italiani agli investimenti obbligazionari. Io sono Cristian, su questo canale si parla di finanza personale ed investimenti e con il video di oggi voglio dare avvio a quello che sarà un mini corso gratuito in tre episodi in cui parleremo in maniera approfondita ma semplice di obbligazioni e titoli di Stato, per provare una volta per tutte a capire di cosa stiamo parlando quando ci riferiamo a quelli che in inglese vengono chiamati bond. In questo primo episodio parleremo in maniera più generale di cosa sono le obbligazioni, di quali sono le caratteristiche da valutare prima di acquistare un titolo obbligazionario e di quali sono i rischi connessi a questo genere di strumento. Nel secondo episodio ci concentreremo maggiormente sulle varie tipologie di obbligazioni emesse dallo Stato italiano, come BOT e BTP. E infine nel terzo episodio parleremo di strumenti più complessi, come obbligazioni callable, putable e convertibili e faremo una panoramica sugli ETF a base obbligazionaria. Prima di cominciare però, se volete supportare il lavoro che c'è dietro questo genere di contenuti che per voi sono del tutto gratuiti, vi chiedo subito di lasciare un like al video per permettermi di arrivare a quante più persone possibile e vi ricordo che iscrivendovi al canale avete la possibilità di continuare a seguire questo genere di contenuti e mi date una grossa mano a crescere qui su YouTube. Partiamo allora da una semplice definizione generale del concetto di obbligazione. Un'obbligazione è uno strumento finanziario che rappresenta un titolo di debito per chi la emette e un titolo di credito per chi l'acquista. Quindi mentre investendo in azioni stiamo acquistando una piccola porzione di un'azienda, comprando un'obbligazione stiamo di fatto prestando il nostro denaro all'emittente in cambio di un interesse che riceveremo periodicamente oppure alla scadenza. E tra poco vediamo anche quali sono le forme in cui possiamo ricevere questo interesse. Le obbligazioni possono essere classificate in due macrocategorie che si differenziano in base al tipo di emittente. Se l'obbligazione è messa da uno Stato, come può essere l'Italia, si parla di obbligazione governativa o più semplicemente di titolo di Stato. Mentre se l'obbligazione è messa da un'azienda, allora si parla di obbligazione societaria o secondo la definizione anglosassone di obbligazione corporate. Quindi chi emette l'obbligazione può essere un'azienda oppure il governo di uno Stato, mentre dall'altro lato l'investitore, quindi chi acquista l'obbligazione, può essere sia un privato cittadino, sia una banca o un fondo di investimento, ma in alcuni casi anche il governo di uno Stato nazionale può decidere di comprare il debito di un altro paese oppure di una società. Dopo aver visto una prima classificazione delle obbligazioni, è importante concentrarci su quelle che possono essere le caratteristiche specifiche, che cambiano per ogni titolo e che vanno prese in considerazione quando si valuta un'obbligazione. Abbiamo già parlato di emittente, perciò quello che dobbiamo verificare subito dopo è la valuta nella quale viene emessa l'obbligazione e nella quale chiaramente verrà poi ripagato il debito. Infatti è altamente probabile che governi e aziende europee emettano obbligazioni denominate in euro, ma se andiamo ad acquistare obbligazioni emesse al di fuori dell'Unione Europea, dobbiamo anche considerare che una valuta diversa ci espone ad ulteriori rischi. La seconda cosa da verificare è la data di scadenza dell'obbligazione, che in inglese è chiamata maturity date ed è la data nella quale riceveremo indietro il capitale che abbiamo prestato all'emittente. Un'altra delle cose importanti da verificare è la tipologia delle cedole prevista per l'obbligazione, cioè la modalità con la quale l'emittente ci pagherà gli interessi che maturiamo. Generalmente le cedole possono essere di quattro tipologie principali. Nelle obbligazioni a tasso fisso viene dichiarato in anticipo il tasso di interesse che verrà pagato ad ogni scadenza e questo tasso di interesse non cambia nel corso del tempo. Quindi, per esempio, un'obbligazione che paga il 4% di interesse annuo con scadenza semestrale ci pagherà ogni sei mesi il 2% di quello che abbiamo investito, o per essere più precisi il 2% del valore nominale dell'obbligazione. Ci sono poi le obbligazioni a tasso variabile progressivo, con varianti step up o step down, in cui il tasso di interesse è definito all'inizio, ma aumenta o diminuisce nel tempo secondo uno schema di tassi preannunciato. Ad esempio, il BTP valore emesso dal governo italiano è solitamente un'obbligazione step up, perché il tasso di interesse aumenta nel tempo in base a valori predefiniti. La terza tipologia è invece quella delle cedole a tasso variabile, in cui non è possibile conoscere in anticipo l'ammontare esatto degli interessi ricevuti, perché il tasso di interesse cambia in relazione ad un fattore esterno non prevedibile, come ad esempio può essere l'andamento dell'inflazione. Infine esistono le cosiddette obbligazioni zero coupon, che non pagano nessuna cedola, ma che comunque riconoscono un interesse all'investitore, perché una volta raggiunta la data di scadenza, ripagano un importo più alto rispetto al costo iniziale. Abbiamo quindi parlato di cedole e tassi di interesse, ma dobbiamo anche riassumere brevemente cosa si intende quando si parla di prezzo e valore, perché non sempre il valore di un'obbligazione corrisponde al suo prezzo. In particolare quando si parla di prezzo e valore di un'obbligazione si ragiona in centesimi, e un'obbligazione si definisce alla pari quando ha un prezzo che è esattamente di 100 centesimi, che non significa che costa 100 euro, ma che costa il 100% del suo valore nominale, che è l'importo sul quale vengono calcolate le cedole, ed è generalmente, ma non sempre, anche l'importo che ci viene restituito alla scadenza dell'obbligazione. Di conseguenza se il prezzo di un'obbligazione è inferiore a 100 centesimi si definisce sotto la pari, mentre si dice sopra la pari se è al di sopra dei 100 centesimi. Ad esempio se il valore nominale di un'obbligazione è di 1000 euro e noi l'acquistiamo sotto la pari a 97, significa che la pagheremo 970 euro. Le obbligazioni possono essere generalmente acquistate in due momenti differenti. All'emissione del titolo, quindi nel momento in cui l'emittente decide di mettere l'obbligazione sul mercato, e in questo caso le paghiamo al prezzo di emissione, che viene deciso direttamente dall'emittente, oppure possiamo acquistarle in un secondo momento sul mercato secondario, comprando quindi da un altro investitore che decide di vendere, e in questo caso il prezzo è quello di mercato, definito in base al meccanismo di domanda e offerta. Quando acquistiamo un'obbligazione sul mercato secondario dobbiamo però fare attenzione, perché è possibile che saremo tenuti a pagare un rateo. Infatti le cedole delle obbligazioni si calcolano su base giornaliera, e se compriamo ad esempio un'obbligazione che paga interessi ogni tre mesi, esattamente un mese prima della prossima cedola, dovremo comunque anticipare a chi ci sta vendendo quel titolo i due terzi della cedola che riceveremo, perché proprio quei due terzi corrispondono alla parte di cedola che ha maturato il venditore prima di venderci l'obbligazione. Quindi in questo caso il meccanismo è diverso ad esempio da quello delle azioni, dove potremmo invece acquistare un titolo il giorno prima per ricevere l'intero dividendo. Per chiudere il cerchio possiamo dire che dal prezzo a cui acquistiamo un'obbligazione e dai tassi di interesse offerti deriva il rendimento effettivo della nostra obbligazione. A questo punto però è fondamentale parlare dei rischi, perché anche se generalmente sono considerate un asset a rischio medio-basso, anche investire in obbligazioni può comportare dei rischi per il proprio capitale. E il rischio più importante da considerare è probabilmente il rischio di insolvenza dell'emittente, cioè il rischio che chi ha emesso l'obbligazione non sia più in grado di ripagare il debito e che quindi non riesca a restituire l'importo ricevuto e gli interessi previsti agli investitori. Per valutare questo genere di rischio esistono delle agenzie, come ad esempio Fitch, Moody's e Standard & Poor's, che si occupano di classificare l'emittente, definendo un rating che aiuta a suddividere i vari titoli in obbligazioni investment grade, dove il rischio di insolvenza dell'emittente è contenuto, e Junk Bond, letteralmente obbligazioni spazzatura, per cui è molto probabile che il debito non venga ripagato. Oltre al rischio emittente, esistono però almeno altri tre rischi che andrebbero valutati. Se ad esempio si investe in obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro, bisogna considerare il rischio di cambio, cioè il rischio che il tasso di cambio tra l'euro e la valuta dell'obbligazione, obbligazione sia sfavorevole e ci porti così a perdere una parte del rendimento atteso. Se invece vogliamo vendere la nostra obbligazione sul mercato secondario prima della sua scadenza, allora dobbiamo considerare il rischio liquidità, cioè la possibilità che non ci siano nell'immediato investitori disposti a rilevare i titoli che vogliamo vendere, e il rischio di mercato, cioè il rischio che il prezzo di mercato della nostra obbligazione sia sceso e che quindi ci potremmo trovare costretti a rivendere il titolo in perdita. Abbiamo quindi fatto una bella panoramica generale sul concetto di obbligazione, sulle varie tipologie e sulle caratteristiche e i rischi correlati a questa tipologia di strumento. Se avete delle domande su temi che non ho trattato o dei dubbi su quello di cui abbiamo parlato, potete scrivere tutto nei commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Ma vi ricordo che arriveranno almeno altri due video a completare questo mini corso sulle obbligazioni, perciò è molto probabile che troverete in uno di quei due video le informazioni che non avete trovato in questo. Io per ora, sperando che abbiate trovato utile questo tipo di contenuto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Nel frattempo per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.